Il mister ti aveva dato questo compito e tu eri uno di quelli osservati speciali. Adesso datti un voto. No, osservati speciali no. Il mister mi ha chiesto di fare il mediano davanti alla difesa. Io l'ho fatto e l'avevo già fatto in passato e quindi quello che mi chiede il mister faccio. Un a uno risultato giusto? Diciamo che per le palle che hanno avuto loro alla fine sì, però potevamo fare meglio noi e non prendere gole alla fine perché ormai mancava un minuto. Potevamo fare molto meglio noi alla fine. La tua partita come ti sei giudicato? Oggi ti ho visto un nuovo ruolo anche perché il mister ti fa fare sia da play che addirittura da trequartista. Sì, sì, io ho sempre fatto la mezz'ala. Il mister oggi mi ha chiesto di fare il mediano. L'ho fatto, diciamo che potevo fare meglio, però sono le prime partite, il campo era pesante, però discretamente bene. Differente? Prego. È una squadra che ha mostrato tanto pressing ma soprattutto tanta qualità. Sì, noi ce lo portiamo dall'anno scorso. Pressing, qualità è quello che ci ha portato a salire di categoria e quindi dobbiamo fare di tutto per metterlo pure in Serie B. Il mister vi ha promosso tutto il centrocampo, l'ho aggiudicato forte. Sì, oltre a quello che abbiamo giocato oggi c'era Luca in panchina, Palmiero, Brucina a casa, Schettino. Ci abbiamo tanta gente di qualità e quantità e possiamo fare molto bene. Adesso dici che cosa ha detto il mister nel dopo partita, se l'avete già sentito. Perché prima ha detto che avete fatto tre allenamenti, compreso la partita di Torino, quindi non era molto soddisfatto. Adesso oggi non ve lo dice, però era soddisfatto. Potevo essere più soddisfatto, però lui alla fine partita non parla mai. Ci tira le orecchie domani al campo.